bene amici di androidblog.it oggi proviamo la ripresa video con la fotocamera da 13 megapixel dello Xiaomi Mi 3 proviamo subito una rapida panoramica e anche un cambiamento di messa a fuoco come vedete è molto veloce nei vari cambiamenti proviamo anche un pan veloce per vedere come si comporta lo stabilizzatore digitale che è presente e anche un controluce ricordo inoltre che è possibile effettuare uno zoom digitale con due dita sullo schermo fino a 6,0,6x la qualità è abbastanza buona ma nel complesso è accettabile quindi video in full hd con Xiaomi Mi 3